Essere pronte ad affrontare le emergenze per salvare una vita o aiutare una persona in difficoltà. Un insegnamento che l'ente di formazione professionale IRIGEM non smette di rinnovare anno dopo anno assieme all'Associazione Nazionale Soccorritori. Prevenzione e formazione dunque due concetti che contraddistinguono IRIGEM che nella sede di Rosà ha ospitato e promosso un importante progetto legato al primo soccorso. In questi 12 anni veramente abbiamo riscontrato la maturità di questi ragazzi che che si dica della gioventù sono veramente interessati. Inizialmente quando si fa la parte teorica magari la prendono un po' quasi come una lezione ma poi quando avviene il momento pratico che si mettono sul manichino e danno veramente l'anima in quello che imparano perché sanno e si rendono conto che oggi un manichino domani potrebbe essere la persona più cara che hanno al mondo. 12 anni in cui l'Associazione Nazionale Soccorritori di Bassano ha incontrato e formato oltre 37.000 studenti con dimostrazioni teoriche e pratiche per affrontare emergenze come l'arresto cardiaco o le manovre di soccorso basilari ribadendo ogni volta che chi più sa più vale e in questo caso specifico sapere significa salvare una lezione importante, una lezione di vita. Grazie a tutti.